Bene, allora io vi saluto a molti più già conosciuti e sono molto contenta di questa giornata che per noi è importante perché, come diceva Chiesa, abbiamo una missione, quella di pensare alla fotografia come oggetto, è la missione che la Fondazione Alinari ha ogni giorno nella conservazione di un patrimonio vastissimo, 5 milioni di fotografie che non hanno niente di materiale ma sono molto fisiche, sono oggetti che hanno un peso, un odore, una vita e noi insieme a Barbara condividiamo questo obiettivo, cioè quello comunque di conoscere la fotografia analogica e in questo caso poi anche a continuare a praticarla. Quindi io ringrazio Barbara e l'associazione Fotonomia che abbiamo fatto questa proposta e che abbiamo accolto subito con molto entusiasmo perché diciamo era nella linea nostra quella di raccontare cosa è la fotografia storica. Quindi io sono molto contenta, mi siedo e vi ascolto con molto piacere, grazie mille di essere venuti e di tutto quello che state facendo per noi. Grazie.